buongiorno ragazzi buon halloween in compagnia della zucca anche quest'anno quest'anno invece invece di maratone ci ha un'altra live trailer action e questa volta movie michael vi porta alla live trailer action di jumanji the next level il trailer finale pronti ragazzi 3 2 1 via della giungla questa è un'altra cosa nessuno ci ha detto che era tutta un'altra cosa qualcosa è andato storto arrivo nonno eddy buongiorno avete visto spencer è quello è tornato lì dentro lo cerchiamo senti un rumore non abbiamo scelto il personaggio ma siamo in florida sono tornato ed è andata ancora peggio guarda qua 1 2 3 abbiamo qualche problema il gioco è rotto ascoltatemi questo è un posto pericoloso dovete avere occhi dappertutto ma si può sapere che diamine erano dove cavolo siamo ma guardami non avevo un fisico così da mai tu un fisico così mai ho gli occhi di un altro colore tu sei tutto di un altro colore guardate qua forze e debolezze linguistica ho un cielo non c'è acco questa è nuova cacchio che bella lista debolezze caldo sole e sabbia come può questo essere un personaggio di un gioco d'avventura ma che caldo fa dobbiamo trovare spencer e bethany questa avventura è ancora più impeditiva stavolta non tutti voi uscirete dal gioco non so se c'era qualcuno al tono di squadra ecco la qua bethany voleva aiutarvi dov'è bethany eccola qua dicendo oh mio dio sono troppo un cavallo si quella è bethany ehi sei proprio negato a guidare ma che vai dicendo ho passato l'esame di guida lo scorso mese di nuovo fantastico ragazzi chi è successo? si sono tornata mi sei mandato tanto mio dio ragazzi ciao bethany ragazzi siamo tornati a jumanji 25 dicembre al cinema e mi fionderò a vederlo sarà fin di natale e fin dopo star wars sembra che lei abbia ottenuto le caratteristiche del primo raggiungerci Danny Glover e Danny DeVito che non è poco tutto il resto mi sembra simile al primo sembra veramente divertente non vedo la rivederla anche per non so come tributo a Kevin Hart che si è a fine salvato da quell'incidente che gli era successo metterò il link del trailer in descrizione vi auguro un buon Halloween e spero che questo trailer vi sia piaciuto è stata una reaction molto veloce di un trailer che è uscito all'improvviso oggi dovevo uscire anche il trailer di qualcos'altro ma non mi ricordo cosa comunque vedremo se uscirà mi vedrete in una live trailer in action ciao ragazzi buon Halloween e a l'hooooooo Grazie a tutti.